Terza e l'ultima parte della nostra rassegna sportiva, parlavamo dell'infortuna di Minic e del Napoli che cerca probabilmente un altro attaccante tra i svincolati, spunto a nome di Miro Close. Vediamo di che si tratta attraverso il Corriere dello Sport.it, ecco la foto dell'ex attaccante, oltre che della nazionale tedesca, anche della Lazio, Close interessa, ma decide Sarri Valanghe di gola esperienza, l'unico svincolato che piace al club. L'acqua gelata piuuta addosso a Napoli ha paralizzato corpi e teste, l'infortunio grave di Minic è stato definito un evento sospeso tra catastrofe e disastro e quindi si punta ad un mercato degli svincolati per far fronte a un'emergenza totale. L'unico nome che piace e che stuzzica alla fantasia è quello di Miro Close, potrebbe essere il tedesco, il colpo last minute. In attesa di gennaio potrebbero operare in tal senso dell'Arentis Sarri e Giuntoli, rispettivamente presidente, tecnico e direttore sportivo del Napoli per rimettere insieme i cocci di un attacco che è rimasto tecnicamente solo con Gabbiadini come unica punta. In attesa che possa essere chissà Leonardo Pavoletti dal Genoa il colpo di gennaio. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. A proposito di Lazio, a proposito di squadra biancoceleste, ecco Cerci, un sogno ritrovare immobile l'esterno della Selico Madrid, l'infortunio alle spalle ha detto tra un mese giocherò, chiedo fiducia. Ricomincia quindi nell'articolo di Daniele Rindone sul Corriere dello Sport la vita a 29 anni, la vita sportiva di Alessio Cerci. E' una rinascita, sono pronto, è un ritorno al futuro per Cerci, non si poteva resistere alle sue incursioni, tacchi, gol e suoi colpi, vuole tornare a quello che è stato, si è scatenato col Torino di Ventura, 8 gol, 12 assist nel 2013, 13 gol, 12 assist nel 2014, ma il destino è bizzarro, Simeone lo volle l'Atletico Madrid, non lo fece poi però giocare. Sono iniziati dall'ora i tormenti in Minani, Genoa e poi il ginocchio che ha iniziato a fare crack. Alessio Cerci ha resistito al dolore e pur di giocare ha pagato le conseguenze, a maggio operato al menisco e oggi ricorrono 5 mesi dal suo intervento. Ad agosto è stato in orbita a Lazio, Lotito ha pensato di ricostruire la coppia Cerci immobile e chissà che non ci riprovi a gennaio, nella speranza quindi di Cerci. Lui però poi in qualche modo conferma di essere in gran forma. Come sta? Gli viene chiesto dall'inviato l'infortunio alle spalle, il ginocchio destro risponde veramente bene. Nel giro di un mese e mezzo sarò pronto per giocare e quindi a quel punto sarò pieno di voglia e di rimettere tutto in discussione. La lunga intervista sul creare dello sport per un giocatore sfortunato, l'ex Roma che potrebbe passare dall'altra parte della barricata. Chissà che invece non passi dall'altra parte della manica a Leonardo Bonucci. Dopo tante offerte arrivate quest'estate si continuano a inseguire le voci tra di loro di una mega offerta da Londra, ma la Juventus tranquilla sembra essere decisa a rifiutare tutte le avance di Antonio Conte. Il tecnico e manager del Chelsea è in pressing costante sul Leonardo Bonucci che già in estate è stato dato molto vicino al City di Pep Guardiola. L'ex allenatore di Bonucci sia la Juve che la nazionale ha davvero un debole calcisticamente parlando per il difensore capace anche di impostare molto bene. Il difensore di Viterbo però dovrebbe essere un baluardo difensivo della formazione juventina di Max Allegri. Da un grande club all'altro, il Milan che pur non vivendo un grande periodo storicamente parlando avaro di titoli, si gode però una grande cantera rossonera, ovvero un settore giovanile molto ricco, un tesoro da blindare. Da Donnarumma a Locatelli, 200 milioni nel forziere. Sono stati commisurati in questi termini i valori dei giocatori, in particolare Donnarumma che è stato al centro di tante discussioni in queste giornate, come ad esempio con le parole di Mino Raiola, il procuratore che ha detto appunto di avere in mano un vero e proprio tesoro luccicante e in qualche modo il Milan vorrà tenerselo molto stretto blindando la porta per tanti anni. C'è chi invece ha blindato il futuro ma lo sta riscrivendo secondo alcuni grandi progetti, ad esempio quello dello stadio che è in corso d'opera e rivoluzioni societarie con appunto l'addio di Walter Sabatini e della Roma di Pallotta e degli americani. Rispetto al 2001 sono rimasti solo Totti, De Rossi e Lobont, un cambiamento totale. Nell'articolo di Roberto Maeda viene ricalcata una Roma che ormai, anche senza Walter Sabatini, il primo dirigente a sbarcare in quel di Trigoria con la nuova New Age, quella degli americani, si ritrova totalmente cambiata una Roma che viene affidata a Massara per una nuova ricostruzione sul fronte del mercato. Chissà cosa succederà nel mercato, chissà se il prossimo futuro sarà ancora nei piedi di Francesco Totti, in questa foto con il simbolo 4, perché sono 40 gli anni compiuti dal capitano nello scorso settembre. Totti però ha ancora una gran voglia matta di trascinare la Roma anche nei big match e il Napoli è avvisato. Questo è l'articolo della Gazzetta dello Sport che riporta un Totti in gran spolvero con l'obiettivo di tornare protagonista anche nelle sfide che contano. L'obiettivo è quello di giocare contro il Napoli. La Roma è attesa da un lungo percorso dei grandi match prima di Natale, Napoli, poi ovviamente ancora le sfide in divenire con Lazio, Minan, Juventus, tanti appuntamenti con un Totti che è sembrato davvero in grande forma, con la sua famosa frase ormai diventata di pubblico dominio, mi sento in forma più adesso rispetto a quando avevo 25 anni. Una operazione, quella che viene definita in qualche modo San Gennaro, quella della Roma perché appunto San Gennaro è il patrono di Napoli, un articolo che però spazia su altri temi e tocca anche quelli certamente tecnico-tattici con Luciano Spalletti che vedete in questa foto, nell'articolo del messaggero a firma di Stefano Carina. A Napoli e Roma vengono definiti club gemelli diversi che hanno in comune soltanto la rincorsa alla Juventus, per il resto una grande differenza in tutto o quasi da filosofie societarie che ricalcano figure presidenziali molto diverse, pallotta da una parte dell'Aurentis dall'altra, anche se due tecnici molto simili e anche molto amici come Sarri e Spalletti, partiti da un'idea comune con il 4-3-3, con il Napoli che però per il momento, statistiche da mano, ha un maggior possesso palla, 60%, è una Roma che invece ha saputo essere molto più prolifica sotto porta, una Roma che nell'ultima partita contro l'Inter, come si è visto dalle statistiche, ha espresso un nuovo tipo di gioco, ovvero schierarsi con il 4-2-3-1, appoggiandosi molto alla prima punta per puntare poi alla velocità, all'esempio di Salah e lo stesso Florenzi, una prima punta che è Dzeko, che ha fatto molto molto bene nell'ultima gara con l'Inter, dall'altra parte non ci sarà la prima punta a Melick che abbiamo visto per l'infortunio, e chissà cosa succederà per Raja Nainggolan, l'unico dubbio in informazione, al di là delle polemiche per le condizioni che hanno impedito al Belga di rispondere alla convocazione della sua nazionale, problemi al polpaccio che hanno poi riempito di inchiostro di polemiche anche i giornali in queste giornate, per l'amichevole contro la primavera disputata da Raja Nainggolan con la Roma, Spaletti avrà a disposizione la squadra soltanto al completo mercoledì, quando De Rossi e Florenzi e tutti gli altri torneranno dai nazionali, come Giacomo, Manolas, Scesni, Strottman e Salah, il giorno dopo sarà presente Allison che però probabilmente lascerà il posto proprio a Scesni tra i pali, aspettando ancora i problemi di pubalgia di Vermalen, il nazionale belga ancora fermo ai box e il recupero di Rudiger che è ancora in fase di rodaggio dopo l'amichevole, giocata appunto anche da parte sua con la primavera, vedremo che tipo di Roma andrà in scena al San Paolo di Napoli, Nainggolan intanto chiarisce attraverso il club con il Belgio, un contatto per chiarire queste sorte di polemiche, anche il tecnico del Belgio Martínez se ne ha parlato, ha detto che non era una partita ufficiale quella giocata da raggia, quindi nessun problema, lo staff medico giallorosso si è riunito, quindi probabilmente una sorta di conference call per mettere a disposizione tutte le notizie del caso con lo staff medico dei Belgi, si parla anche di mercato in chiave Roma, ma in chiave prospettiva, Massara potrebbe regalare il primo colpo ai giallorossi, si punta a Brozovic che è da tempo ai ferri corti con l'Inter, questo è l'articolo del tempo a cura di Alessandro Austini, l'Inter e Brozovic molto vicini a separarsi, quindi si parla di questa pista in chiave Roma che ha bisogno di un trequartista di tecnica lì davanti, noi con questa notizia abbiamo però esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi non mi resta che rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la nostra rassegna sportiva, grazie e arrivederci.